Gli altri operatori di quella squadra UAV nemico in zona Nemico in arrivo nell'area Lancio di equipaggiamento in arrivo UAV nemico attivo Zero a Semtex UAV alleato in zona Un compagno è giusto Bene, nemico è giusto I suoi amici sono marcati sulla mappa classica Ecco la scusione Marco il resto della squadra sulla mappa classica Buona caccia Decisione confermata Sappiamo dove sono gli altri UAV nemico in volo